dobbiamo tenere questo secondo me abbiamo continuato questa strada e dobbiamo continuare così per le prossime gare aspettavi un Lucas così decisivo dalla battuta stasera Lucas è decisivo sempre sia in attacco sia in battuta sapevo che lui lui può essere decisivo in qualche partita non solo giocando in Italia con la nazionale è sempre stato così, è sempre stata una sicurezza non mi stupisce mai lui non ve l'aspettavate una partita così netta nei primi due set? ma non è stata netta nel primo set siamo stati sei punti dietro abbiamo dovuto anche spingere tanto la nostra battuta ha fatto la differenza oggi però finita la prima, adesso pensiamo alla seconda che sarà è molto difficile a Perugia la sport è difficile quanto a Trento? sì, abbastanza caldo Perugia secondo me anche più caldo di Trento grazie a voi grazie a tutti Grazie a tutti